Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Sette giorni pieni zeppi di avvenimenti, uno più coinvolgente dell'altro. La settimana marsicana, allestita dalla Proloco di Avezzano, ha fatto registrare il pieno di visitatori per tutta la sua durata. Gli sforzi degli organizzatori hanno fatto il paio con la fatica che gli stessi componenti della rinata associazione hanno dovuto affrontare, ma alla fine la soddisfazione per la buona riuscita ha ripagato tutti delle tante ore di sonno perso. Il servizio che segue è proprio dedicato a chi non si è mai rispermiato nel corso di questi giorni. Vediamo. Questo servizio non era in programma, ma abbiamo voluto realizzarlo lo stesso per dare i giusti meriti a chi questi meriti li ha. E parliamo degli amici della Proloco di Avezzano, che hanno riesumato, forse è il caso di utilizzare proprio questo termine, la settimana marsicana a distanza di oltre mezzo secolo. Un successo strepitoso, tantissimi visitatori, dalla prima all'ultima giornata. Sette giorni pesanti per tutti gli organizzatori. Avete presente un atleta che fa la maratona, che percorre 42 km di corsa? Ebbene, questi signori di maratona ne hanno corse sette, una dietro l'altra. Ma adesso siamo arrivati alla fine. Di solito, quando si chiude, cala il sipario, si abbassano le luci. Arriva anche un po' di malinconia, ma in questo caso la malinconia non deve trovare posto. Federico Dudico, il presidente di questa bella associazione, di questo bellissimo gruppo. L'idea originaria è stata tua, questa pazzia, l'hai chiamata così all'inizio. Sì, esattamente. È una pazzia perché adesso abbiamo compreso il motivo perché chi ci ha preceduto non ha mai pensato a revocare la settimana marzicana, proprio perché per l'impegno di organizzare questo cantiere. Perché, come sappiamo, dal 51 al 64 chi l'aveva organizzata aveva messo in campo dei grandi eventi e noi, proprio per non sentirci meno, abbiamo buttato dentro circa 85 manifestazioni. E il successo è stato strabiliante, la gente ha risposto bene, ma soprattutto le famiglie, i giovani. E un'altra cosa che voglio segnalare, di cui veramente è un vanto per la città di Avezzano, è quella che non ci sono rilevati assolutamente di disordini, di natura di ordine pubblico, sicurezza pubblica. Io lo sapete, il lavoro che faccio, quindi per me è alta gratificazione. Cioè non abbiamo avuto problemi di sorta con nessuno. Per Giorgio Apolloni, è un abruzzese, un marzicano di adozione, possiamo dirlo, perché il cognome è Veneto, Vicentino, se non ricordo male. Ecco, tu hai sposato questa casa da sempre. L'Abruzzo e la marzica per te sono stati casa tua da sempre. Sì, questo è vero. Sono venuto tantissimi anni fa qui ad Avezzano e chiaramente mi sono trovato molto molto bene. Oltretutto i miei due figli sono nati qui, quindi mi sento chiaramente marzicano da sempre. Quindi ho sposato chiaramente quest'idea, l'idea di Federico e chiaramente il gruppo che abbiamo creato è stato un gruppo molto molto interessante. E quest'anno ci siamo praticamente superati, secondo me, visto, basta guardare fuori, vedere la gente, vedere chiaramente quanta gente ha aderito. E questo è stato il pagamento, credo, per noi, per tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Quindi spero che si possa chiaramente duplicare. Quindi il prossimo anno, se chiaramente riusciremo a riorganizzarla, se ci danno la possibilità, noi lo faremo ben volentieri. Un'altra persona che con la marzica, in teoria, sulla carta avrebbe poco da spartire, è questo signore qui, che è insegnante di musica e è aquilano. Che effetto fa ad un aquilano vedere un marzicano che ha tanto successo? Un marzicano nel senso di manifestazione. Aquilano, anagraficamente parlando, avezzanese un po' di adozione, perché sono 31 anni che insegno qui, quindi più della metà dei miei anni sono un avezzanese davvero adottato. Per rispondere alla domanda tua, diciamo che sono estremamente contento, estremamente felice di far parte di questo prologo che è estremamente eterogenea come componenti. Poi ha tanta voglia di fare e diciamo che il mio apporto d'aquilano può essere in questo senso qui, stimolare un pochino di più su alcuni aspetti che saranno certamente da migliorare in futuro. Fabio Paoloni è un artista, lo sappiamo, lui crea delle cose, degli oggetti, veramente oggetti d'oro, oggetti d'argento, oggetti preziosi, veramente belli, importanti. Ecco, un artista in mezzo a tutto questo bailam, come si è trovato? Benissimo, un artista tra gli artisti, un artista tra gli artisti, non volendo, perché è un gruppo bellissimo, ognuno ha messo la sua, ognuno ha messo la sua faccia, ognuno ha messo la sua idea e abbiamo fatto delle cose egregie. Quindi un progetto nato come lo realizzo io, la bozza, il progetto, la realizzazione, questo è il risultato. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Un giramondo, possiamo dirlo, perché Carlo Genovesi l'Italia l'ha girata in lungo e in largo. Manifestazioni del genere, ti è mai capitato di trovarle in giro? Beh sì, di manifestazioni così ce ne sono tante, ma manifestazioni così ben riuscite, organizzate con così poco tempo, effettivamente no. Perché il nostro orgoglio è proprio quello di aver allestito un equipaggio, di aver allestito una compagine di persone molto eterogenee, che si sono date da fare dal primo momento, con un intento comune, riuscire ad ottenere qualcosa di eccezionale. Questo qualcosa di eccezionale non l'abbiamo ottenuto, siamo riusciti a portare qui decine, secondo me, più di 10-15 mila persone, ma forse di più, io dico questo per difetto, non per eccesso, perché non voglio esagerare. Ma siamo riusciti a fare qualcosa di fantastico, perché la Proloco è la gente e noi siamo riusciti a coinvolgere la gente. Abbiamo fatto uno spaccato preciso dai più piccoli ai meno giovani, siamo riusciti a dare ad ognuno un ruolo, siamo riusciti a portare ognuno a compimento di un qualche cosa che si è sentito realizzato. E questa per noi è la più grossa soddisfazione, essere riusciti a portare la gente a fare per la gente, questa è la cosa importante. Artista Fabio Paoloni, ma artista per certi versi anche Pippo Lolli, perché ha frequentato le prime emittenti private, radiofoniche, televisive, diversi anni fa. E quindi quell'esperienza ti è tornata mai utile in questo caso? Certamente, anche se a stare a contatto diretto con le persone, magari in radio c'era un contatto indiretto, ma questo contatto diretto, credimi, mi ha portato veramente a volte molta emozione. E vedere tutta questa gente mi ha inorgoglito ancora di più. Un altro professore in pensione, o meglio, un preside, Ilio Leonio. Allora, dicevamo l'altro giorno, se non sbaglio, parlavamo di cultura. Di solito la cultura fa allungare la barba, come all'ammiraglio qui, ma molto di più. E invece nel caso vostro, nel caso di questa settimana, non è stato così, perché i convegni, tutte le manifestazioni che avete fatto, basate sulla cultura, insomma, mi pare che abbiano riscosso un successo clamoroso. Beh sì, noi abbiamo detto che avevamo eletto come il nostro rappresentante ufficiale il Somaro, quindi la nostra non era la cultura, diciamo, che fa crescere la barba, ma la cultura delle persone umili che si mettono in gioco, che ce la mettono tutta e che si caricano sulle spalle il territorio, io direi in maniera quasi semiseria e semicomica. Nel senso che abbiamo preso tutto per il verso anche di simpatia, non abbiamo mai preso le cose eccessivamente sul serio. Se devo fare il preso devo dire che è una classe assolutamente sgangherata, però assolutamente straordinaria. E per concludere direi che noi abbiamo fatto della imperfezione una sorta di perfezione. E anche questo è un successo. Questo signore qui non era previsto nel servizio, ma ce lo infiliamo di prepotenza vorrei dire. Chi ha studiato storia, chi è andato a scuola conosce Nazario Sauro, conosce il risorgimento italiano, conosce il sangue versato dai nostri avi, dai nostri nonni per la causa italiana. L'ammiraglio Sauro, un discendente, il discendente diretto di Nazario Sauro, ecco lei è diventato ospite in questa ultima giornata. Che impressione ha riportato di questa kermesse, di questa gran bella confusione? Ma a parte il fatto che non è la prima volta che vengo ad Avezzano nell'ultimo periodo, questa è, lo dicevo oggi, la decima o più volte che vengo qui ad Avezzano. Ma non in circostanze del genere, c'è un festone grande così? No, non in circostanze del genere. Ciononostante sempre, dalla prima volta a quest'ultima, mi sono sempre sentito come a casa mia. Quindi una grande accoglienza e questo luogo, questa location è un posto che si adatta molto bene, secondo me, a integrare. Perché è quello che serve, secondo me, in Italia in particolare, ma fra tutti noi, è quello di integrarci, di vivere insieme, di vivere all'aria aperta, di vivere in comunità. C'è bisogno di tutto questo. Io da marinaio sento che questa è la strada giusta e credo che la Proloco in questo abbia ottenuto il risultato che voleva poi evidentemente ottenere e di cui mi sento onorato di aver fatto parte, insomma, nel mio piccolo. Giusto, Preside? Giustissimo. Noi abbiamo proposto, nell'ambito della manifestazione che abbiamo fatto poco fa con l'ammiraglio Romano Sauro, abbiamo proposto all'amministrazione comunale, ufficialmente, di concedere la cittadinanza onoraria a Romano Sauro. Quello che non siamo riusciti a fare con il nonno lo facciamo con il nipote e su questo faremo una battaglia e se serve anche una guerra, perché noi vogliamo assolutamente che venga data questa cittadinanza onoraria. Ebbè, insomma, un personaggio così. Io a questo punto vorrei che il Presidente si alzasse in piedi e venisse qui a fianco a me. Allora, Presidente, tu dico, siamo arrivati alla conclusione. Dicevamo prima che di solito quando cala il sipario arriva anche la tristezza, ma voi siete stanchi e forse non c'è spazio per la tristezza, perché secondo me domani metabolizzerete tutto quello che avete fatto e incomincerete a pensare già alla prossima edizione. È così? Sicuramente è così. Non credo che rispolverare, rievocare una manifestazione di questo genere la possiamo far terminare nel 2016. È chiaro che dobbiamo andare avanti, migliorare perché dei errori ne abbiamo fatti tanti, però la risposta e la soddisfazione ce l'abbiamo avuta dalla gente. La gente che ha partecipato, quindi la loro risposta è stata quella della copiosa partecipazione alla città d'Avezzano. E questo è quello che ci rende felici. E domani che farete? Domani smonteremo tutta la logistica che abbiamo installato precedentemente. E questi signori qui che faranno domani? Sicuramente mi chiameranno tutti quanti a dire che dobbiamo fare. Glielo facciamo un applauso al Presidente, cioè ve lo dovete fare da soli, no? Si è tenuto sabato scorso nell'ambito degli eventi programmati per la settimana marsicana, appunto il primo torneo di tennis dei sindaci e degli amministratori di Marsi. A sfidarsi sui campi da tennis, dall'Avezzano Tennis Team Scuola Tennis Paolo Tomassetti, associazione organizzatrice dell'evento, con il patrocinio del Comune di Avezzano. I primi cittadini di diversi comuni marsicani, supportati da assessori e consiglieri, due per ogni comune in gara. Giole di supporto d'eccezione, il giovanissimo e bravo Andrea Germani, allievo della scuola tennis. Comunque ottime le prove offerte dagli atletici rappresentanti, con le formazioni di Avezzano, Aielli, Magliano De Marsi, Pescina, San Vincenzo, Valle Rovetto, Cerchio, Civitella Rovetto e Capistrello. Impegnati nella sfida a colpi di racchetta, ad agguantare la fascia della vittoria, il Comune di San Vincenzo, Valle Rovetto, che sportivamente l'ha riassegnata, ex equa, a tutti i comuni marsicani. Nella sala ex arsa, intitolata ad Antonio Picche, si è tenuto l'incontro tra l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe e i sindaci della Marsica, organizzato dal Comune di Avezzano per la presentazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Abruzzo. L'assessore Pepe ha illustrato il bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale leader di tipo partecipativo, le cui domande scadranno il 9 settembre prossimo per una dotazione finanziaria di 24 milioni di euro, con riferimento al PSA Abruzzo misura 19. Gli interventi servono a favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e di tecnologie nel settore agricolo e alimentare, ha affermato l'assessore Pepe, ma anche per l'attività non agricole, per la creazione e lo sviluppo di microimprese, l'incentivazione di attività turistiche, la creazione di servizi essenziali per l'economia e per il rinnovamento di villaggi rurali, valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio, accesso ai servizi pubblici essenziali. Per informazioni e chiarimenti relativi al bando, gli uffici dell'assessorato sono a disposizione degli interessati, anche se ci troviamo in un periodo particolare per le fare e festività. Presenti comunque all'incontro, oltre all'assessore Pepe, il presidente della Commissione regionale agricoltura, Lorenzo Berardinetti, e il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. Eulan, il nuovo portale del CAM, con più informazioni e servizi. Autolettura del consumo idrico in forte crescita in vista della fatturazione del secondo quadrimestre 2016. Il Consorzio Acquedotistico di Avezzano apre altre strade per dare a di oltre 88.000 utenti marsicani la possibilità di comunicare la lettura del proprio contatore, pagando così il consumo effettivo. Opportunità inserita nel nuovo portale del Consorzio Acquedotistico Marsicano online, dei primi di agosto, arricchietto di contenuti e informazione, dove attraverso il sito web cam-spa.com gli utenti possono comunicare la lettura del contatore, opzione che ha raggiunto quota 14.000 nei primi sei mesi di quest'anno, con un forte incremento in percentuale sull'anno 2015-22.314. Salgono a quattro quindi le scelte possibili per l'autolettura in vista della fatturazione. Telefonicamente al numero, lo ricordiamo, che è 0863 090030, l'indirizzo email autoletture-cam-spa.com oppure tramite lo sportello della sede societaria in via Caruscino, numero 1 ad Avezzano. Per pagare il consumo reale in caso contrario, il CAM fatturerà in base al consumo storico. La società di gestione invita gli utenti a comunicare i consumi, preferibilmente entro il 20 di agosto, anche se l'autolettura è possibile sempre. Un peso massimo di 1,2 kg rispetto agli ordinari esemplari, di 200-300 g. il porcino gigante trovato nei boschi vicino Tornimparte e nei pressi di L'Aquila è sottoposto alla visione consulenza del servizio micologico dell'ASL, situato da Avezzano, via Montevelino. Imbattuto sì nel mastodontico porcino estivo, il fortunato cercatore di funghi lo ha sottoposto all'attenzione dello specialista ASL, Stefano Maggi, che dal giugno scorso esamine funghi raccolti nei prati e ne stabilisce la commestibilità a titolo gratuito e lo farà fino al 28 novembre prossimo. Nella circostanza, tuttavia, il ricorso all'esperto è servito non a capire se l'esemplare micologico fosse o meno commestibile, bensì avere notizie minuziose sulla classificazione scientifica. Il megaesemplare di porcino estivo ha un diametro di 40 cm e un peso circa 4 volte superiore ai comuni funghi della sua specie. Nella circostanza, quindi, il servizio micologico, ricordiamo, gratuito, riavviato dall'ASL nel giugno scorso, ha svolto anche una funzione di informazione sui dettagli e sulla nomenclatura del fungo. Dal 6 giugno scorso a oggi il servizio micologico attivo ad Avezzano, via Montevelino, ha esaminato 20 quantità di funghi sottoposti alla verifica di commestibilità dalle persone che li raccolgono, accertamento dispensabile per portarli a casa e cucinarli in tutta sicurezza. Sono state pubblicate questa mattina sul sito Abruzzo Lavoro le graduatorie provvisorie del bando 30+, riservato ai giovani abruzzesi under 35 per incentivi all'assunzione e tirocini formativi extracurriculari. Il bando era riservato alle imprese abruzzesi che, incrociando domande offerte di lavoro sul sito Borsa Lavoro Regionale, avevano la possibilità di presentare la propria candidatura con l'indicazione del giovane per proporre un piano assunzionale a tempo indeterminato oppure un tirocino extracurriculari presso la propria azienda. In entrambi i casi le aziende potevano contare su una contribuzione a fondo perduto, fino a un massimo di 9.000 euro per le assunzioni e sul rimorso dell'indenità di tirocinio. Le graduatorie provvisorie sono state divise in linea A, tirocini formativi extracurriculari, e linea B, incentivi all'assunzione. All'interno di ogni linea poi c'è la graduatoria degli ammessi e degli esclusi. È bene chiarire che la Regione sta verificando, tramite dei centri per l'impiego, la sussistenza dello Stato di disoccupazione, requisito di ammissibilità all'intervento. Ogni eventuale osservazione o richiesta di chiarimenti da parte delle imprese che hanno presentato la candidatura può essere inoltrata all'indirizzo pec.regione.abruzzo.it. Le graduatorie sono consultabili anche sul profilo Facebook e Twitter. Iniziata puntuale. La Commissione proseguirà in Consiglio regionale la nostra battaglia contro la legge sveltina preparata dalla Giunta ad Alfonso, che determinerà un aumento del 15% del costo dei biglietti dell'autobus, 8 milioni di euro di prelievo aggiuntivo dalle tasche degli abruzzesi. Quella proposta non passerà mai se TUA è a corto di liquidità e si ritrova sulla testa la spata di Damocle nei nuovi tagli predisposti dal governo Renzi, cosa che avevamo preannunciato da mesi tagliasse le indenità e i ruoli dirigenziali e non ipotizzi nemmeno di reperire nuove somme mettendo le mani in tasca ai cittadini. Lo hanno detto i consiglieri regionali di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, capogruppo, e Mauro Febo, presidente della Commissione Vigilanza, che hanno iniziato la battaglia sulla linea dell'ostruzionismo per bloccare prevedibile le sue mosse, hanno commentato Sospiri e Febo. E pensa di poter aver gioco facile, approfittando della scontata distrazione delle ferrie agostane per mettere a segno qualche colpetto dopo aver trascorso 24 mesi in affanno. E poco importa se quei colpetti sono un danno per gli abruzzesi condannati a pagare e subire. Ovviamente hanno giunto Sospiri e Febo, non lo consentiremo, quegli aumenti non passeranno mai l'esame della Commissione, non verranno mai approvati e da questa mattina abbiamo inchiodato i consiglieri regionali e porteremo la battaglia anche in consiglio regionale per far capire al governatore D'Alfonso che il tempo dalle sveltine è definitivamente concluso. Torniamo a parlare della problematica dei cinghiali. Per il WWF bisognerebbe togliere la gestione dei cacciatori e affidarli ai esperti della fauna selvatica. Le emissioni a scopo venatorie iniziate dagli anni 50 hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale nel creare la situazione di espansione e crescita delle popolazioni di cinghiale. Non sono le considerazioni di associazioni ambientaliste, ma le conclusioni di diversi studi, rapporti dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'ISPRA, l'organismo governativo deputato istituzionalmente effettuare ricerca sulla fauna selvatica e emanare i pareri tecnici a favore delle pubbliche amministrazioni. È evidente quindi la responsabilità storica sulla proliferazione dei cinghiali delle associazioni venatorie e delle amministrazioni pubbliche e loro compiacenti. La Santa Alianza stipolata in questi anni tra cacciatori e regione Abruzzo, portato al disastro nella gestione faunistico-venatoria, dichiara Luciano Dittizio, delegato regionale del WWF Abruzzo. Daniel WWF sostiene che all'impresa agricole andrebbe riconosciuto un ruolo più rilevante nella gestione del cinghiale, non solo perché costituiscono la categoria che maggiormente subisce disagi, ma perché se coinvolte nel modo corretto possono essere una componente strategica per la riduzione del danno. Purtroppo fino a quando le organizzazioni agricole continueranno a farsi rappresentare da cacciatori all'interno dei comitati di gestione faunistica, prevarranno gli interessi venatori su quelli agricoli. WWF rinnova, pertanto, l'invito alla regione a organizzare con tecnici indipendenti non legati alle lobby e venatoria, un momento di confronto vero e non, come tante volte è accaduto in passato, precostituito per confermare una scelta già assunta aprioristicamente. L'esecutivo regionale e la maggioranza di centro-sinistra fanno marcia indietro e decidono di non eliminare l'aumento del 57% dei canoni idrici a carico dei consorsiati dell'ente di bonifica sud. È quanto dichiara il consigliere regionale Mauro Febbo di Forza Italia, a margine dei lavori della terza commissione convocata oggi all'Aquila prima del Consiglio regionale. Praticamente, spiega Febbo, rimangono il mio emendamento inserito nel progetto di legge numero 283 2016 dove si andava a destinare un contributo di 500 mila euro al consorzio di bonifica sud e contemporaneamente ad annullare l'aumento del 57% dei canoni idrici già a partire dall'anno in corso. Con l'odierna modifica portata dall'attuale maggioranza di centro-sinistra rimane invece in piedi solo il contributo dei 500 mila euro senza intaccare per nulla lo sconsiderato aumento che pesa su gli agricoltori peraltro contravvenendo ad una risoluzione urgente approvata all'unanimità che ne chiedeva l'annullamento. Una vera e propria mannadia che si aggiunge alle tante difficoltà del mondo primario come ultima in ordine di arrivo il bassissimo costo del grano. Vista la situazione critica e debitoria in cui verso il consorzio di bonifica sud aggiunge il consigliere regionale ho condiviso in modo favorevole la decisione di contribuire alle casse dell'ente vastese con un aiuto di 500 mila euro ma adesso mi aspetto di capire l'intenzione dell'attuale commissario. Diventa legge dello Stato l'accertamento diagnostico è un attelo obbligatorio per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. L'obiettivo è quello di consentire in tempo utile la diagnosi di malattie metaboliche rare per le quali oggi è possibile effettuare una terapia. Sono molto soddisfatta per l'approvazione in commissione del Senato in sete deliberante della legge metere di screening neonatali per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Si tratta di misure significative che ho fortemente sostenuto dichiara il ministro Lorenzin. Voglio esprimere la mia personale gratitudine per il lavoro svolto da tutti i gruppi parlamentari capaci di raggiungere un obiettivo fondamentale come lo screening neonatale, la diagnosi precoce di patologie per la tempestiva presa in carico ed avvio di adeguato trattamento. Anche il sottosegretario della salute Vito De Filippo esprime piena soddisfazione per l'approvazione della legge e grazie a questa legge si potranno effettuare sull'intero territorio nazionale gli screening allargati. Tutto pronto per la prima edizione del festival Zomporo Schioppo al via il 12 agosto tra boschi della riserva naturale. Le 17 film compongono la prima edizione della rassegna cinematografica morinese che avrà luogo tra i sentieri della riserva Zomporo Schioppo venerdì prossimo. Tra le tante opere italiane spiccano i lavori firmati da registi spagnoli e russi che aumentano l'attesa e il prestigio del festival, unico nel suo genere in tutto l'abruzzo tra gli addetti e lavori e gli appassionati. La rassegna patrocinata dalla riserva naturale Zomporo Schioppo, dal consorzio quedotistico marsicano, dal comune di Morino e della provincia di L'Aquila, viene a diventare un progetto innovativo ed entusiasmante l'interesse internazionale nella divulgazione della cultura ma del rispetto ambientale. Temi principali della giornata saranno l'acqua e il cambiamento climatico, protagonisti non solo di parte di cortometraggi ma anche del calendario della giornata. Dal pomeriggio infatti la riserva naturale si animerà con convegni, workshop e interventi di esperti ambientali e autorità che precederanno l'inizio delle proiezioni itineranti. La comancità di Rocco Popelè rompe il festival internazionale di mezza estate. Domani, mercoledì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, sarà il poliedrico artista della Basilicata a incantare il pubblico di Itadiacozzo. Papaleo, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a numerosi film, il suo contributo dietro la macchina da presa, si esibirà in piazza Obelisco alle 21.15 tra incollati alla poltrona centinaia di spettatori che già si sono accaperrati il biglietto con uno spettacolo che spazierà dalla musica alla comicità. Dal pomeriggio poi spazio per i bambini al festival internazionale di mezza estate a Tagliacozzo con Specchio specchio delle mie brame della compagnia di alcuni. Spettacolo per i bambini si trarà al teatro Italia alle 17.00. I quattro passi nella storia buona. La prima è il mini tour alla scoperta dell'arichissimo patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico promosso da Proloco di Cevita Dantino, riserva naturale Zomporo Schioppo e comitato per la salvaguardia di Morino Vecchio nei due centri rovetani noti alle cronache per gli artisti danesi capitanati da Christian Zartman e la splendida Area Protetta. Ha richiamato quasi un centinaio di persone, un esordio più che soddisfacente per il primo evento di turismo a chilometro zero nella Valle Roveto, dove gli organizzatori hanno dovuto chiamare un secondo pullman per assicurare il trasferimento da Gran Cia a Civita Dantino, prima tappa della visita guidata al cimitero napoleonico, la Torre dei Colonna e il Museo archeologico. Organizzatori più che soddisfatti per i numeri del primo mini tour alla scoperta dal centro della Valle Roveto, ma soprattutto come sottolinea Tonino Di Cesare, il presidente della Proloco di Cevita Dantino, per l'interesse e l'entusiasmo dei partecipanti, felice di aver scoperto un patrimonio di assoluto valore, vista quindi altri tour turistici a chilometro zero con possibili nuove mete aggiuntive. Ed arriva il progetto che valorizza i siti archeologici, parte infatti da Corfinio, una nuova proposta di turismo culturale che coinvolge 40 comuni e che chiama in causa la storia di questa regione. Nel centro Peligno, cuore della guerra sociale che tra il 91 e l'88 a.C. la lega italica combatte contro Roma, si sono ritrovati amministratori e esperti per presentare HERA, progetto di estrazione europea nell'ambito del programma IPA Adriatico che coinvolge 14 partner nazionali e internazionali i cui territori si affacciano sull'Adriatico. L'obiettivo è creare una piattaforma comune dell'area adriatica per la gestione e la promozione di un turismo sostenibile, tutto fondato sul patrimonio storico dei territori. In Abruzzo HERA si concretizzano un'offerta di tutto rispetto, un itinerario storico-culturale che tocca 40 comuni e numerosi siti di rilevanza archeologica e paesaggistica. Questa era l'ultima notizia, il giornale termina qui, come sempre prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Dunque grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.